Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Mi raccomando, ma do Jayton no, un varicociere ti faccio ciucciare dopo E standard o speciale Ieri gli ho detto pensa che stia assaltato su un cazzo, ma frate ma questo pensa che sta assaltato in qualche buco di culo di Nicki Minaj Ma lo capisce anche lui che ha fatto un gran salto Attenzione Mattia Furlani, l'ha detto Stefano sin dalla rincorsa Bellissima la corsa di Mattia Furlani Aveva una corsa così elastica Zio porco, c'avevo pure il TikTok e me sa del bronzo No, non la mia La mia La cacca La mia Asanzu Ok Per volo di bronzo di Furlani, eccolo Passi la folata Va Mattia Furlani, il salto di apertura per quest'Olimpiade La pedale è buona Madonna Ma sono scatenato Oddio C'è olio su te la G schianta Ma che è horror? Madonna santa bro Allora che bello che sono Pazzesco Non è stato snap camera Certo, ovvio Quello che ha chiesto il maestro dice, gioia Che cazzo ha chiesto? È il TikTok Ah, quello di Zano Ti prego Kevin, gas per i 26 Stefano, gas per i 5 Bro, ma quella è alta 1,20 Ammazza e go Fa una roba Stai, ok Fa una roba brutta Perché è tempo di fa Fa una figura di merda Ma a mollura E questa è una roba Che ammettere Rattrista, Fabio Perché? Perché è brutto Perché tu ai videogiochi Sei neanche forte in generale Però Non Non quanto me Se sei pronto per Peggol Uno vive uno a prendere il cazzo Ieri Fabio, non si può giocare Irl a Peggol A meno che non intendi Irl Nel senso Io ho capito Però se non sei capace di intrattenere Poi puoi fare il tuo picco di mille spettatori Se entri in live da qualcuno Poi? Basta Non ti seguo più Non tiri fuori il culo Non sei forte Billy Bella è oggettivamente Secondo me Ha una buona capacità intrattenitiva E te ce credo È piatta da me È piatta da te No, si scherza Si scherza Vabbè, è molto te Cioè, oggettivamente È un po' te Però Cioè, nel senso Rispetto alle altre Ha una buona capacità Anche Kokeshi No, dai Vabbè 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 Buono, zì Buono, buono 10 punti avanti stavo Ma che è? Peccato La potevo smurfà Eh no, questo è chill Questo è proprio basico Ah! Non l'ho mai visto Non l'ho mai visto, zì Ma? Questo non... No, però il Goblino C'ha una voce diversa Secondo me Ma mica lo puoi fare così? Per me sì Ehi Che cazzo enorme che hai lì Niam niam Levatemi snap camera ragazzi Levatemelo anche velocemente Perché... È grave Perché l'hai riscaricato Sì, sì È veramente... Userei solo questo Zazzo... Ma la stessa di prima Cazzo ci sono i bot Porco di Dio Zazzo... Eh, c'è sta idea Ma se voglio dire Dovevamo mettere Uno con le stesse mani Oh, sì, dai Prendilo Che è questo? Ti trovo proprio disgustoso Ah, la banana prendo Ah, vado di sotto Cazzo, cazzo, cazzo Ti l'ha messa Io perché non riesco a tenere bene Il joystick in mano Eh, GG Il bananone che mi manda poi di sotto Madonna, ma non sono un ladro Perché? Mi sei passato davanti ai due poteri Se nasci fregno C'è troppo più sgargiato C'ha lo swag, bro Capito? Matte, grazie per il sub Io non c'è stream Con uno che mi dice Che sono inferiore No, beh A livello di bellezza Dai Sarà perché siamo meno abituati Cioè, uno Tu dimmi Uno Bianco Che è Travis Scott Side baby Per se avvi il video Where your money went I'm talking to you Supercell CEO Your money went to A streamer That doesn't give a fuck About games But just Wanna fuck girls Another one Lolo Lacustre Who's actually talking Only about How Chad he is The other one Went to Joy But I will say later The stream What Joy is This is a problem This is a big problem L'altra Non lo so Con Red Bull Insieme Non ti permettere Ah Monster Non Coca-Cola John Guido Grazie per il sub Quel nome Non va Io no Io non c'entro niente Io non c'entro niente con te Gianmarco A me non mi danno una lira questi Perché non posso dire Il nome Loro ti sentono Non dire il nome Monster Non è sus Ciro Io ho visto Eusebio che lo sguzzava Davanti ai miei occhi Lo avevo rispetto prima Ma su Blurs7 No frate Su Shakira Zio porco Sì Su Blurs7 Però pure questo In realtà Non è live Ma esiste Un counter live Di Instagram La pinta di birra In mano Mano Che fa fica Sì Mano che fa fica Allora Lo prendi così Non so E poi Te ne hai premuto questo E tira No Ok Porco Dio Porco Dio Scusa Mi è partito Mario Lollo Lametino Andrea Bentornati Progetto Grazie per i sub E ragazzi Non ho più forza Per me Molto Gianmarco Perché tu Perché Gioi amici E andiamo Maggio Ma sei scherzando Ci sono Ok Ci sono Gianmarco Vai Uno Perché Tutto lo faresti pure Ho anche quello base Assolutamente Ma veramente Ragazzi Ragazzi Gioca a peccola sul cellulare Che è sta disperazione Diamo Assolutamente Eccolo Era da fare Deducto ragazzi Però ragazzi C'è Si opero Ma sei scherzando Ma se Glielo ho detto prima Alfazzone Non so quando vai in vacanza Te Però c'è Domenico Potremmo fare Mario Party Assolutamente Molto Gianmarco Perché tu Perché Perché Io Amici Peraltro Io C'ho invitato Considera A me Invece Mi ha detto Chris Laway Pallone d'oro Degli Youtube Degli streamer Dopo avermi battuto In finale Pensa Dove Chi può essere Stato più Umiliato Probabilmente Però era un fc Quella Chris Laway Dio Maiale Quindi Spengiamo Spengiamo Questa cacca Assolutamente Among us Spengiamo C'è la soulbasket Se c'è le palle Boh Per creare La suspense In climax Il dio Il dio A casa Vabbè Bella mattina Vabbè Ho capito Va bene Ti sta DG Vabbè Ti rifarai Al prossimo Il tennis Porco Dio I risultati Vengono inseriti Sul Teoricamente Il sito Del torneo Ok Che quindi Li potete Vedere Ve lo linko Nella chat Qui del canale Così Ma poi Vi posterò Comunque Una classifica Parziale Finiti 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 I dieci game Vi posto Una classifica Parziale Con tutta la Somma Dei punti E Dopo dieci game Facciamo 15 10 15 Minuti Di pausa E Che una Lobby Che Modo Che cosa Oh Questa roba qua Come la Disincazzo Sta Allora Come si Fa Come si Chiava Almeno Altri due Persone Servirebbero Madonna Fabio Porco Dio Eh Se trovate Altri Stronzi Sì Altri due Cristiani Servirebbero Ci pezzo